Il capitolo 30 dei Promessi Sposi prosegue di fatto la narrazione di un episodio importante iniziato nel capitolo precedente, nel ventinovesimo capitolo, cioè la decisione da parte di Don Abbondio, di Perpetua e soprattutto di Agnese di cercare rifugio presso il castello dell'innominato per difendersi dall'arrivo dei Lanzichenecchi. Come abbiamo detto alcuni giorni fa, la conclusione di questo episodio spetta alle prime pagine del capitolo trentesimo, capitolo che, per comodità di lettura, racconteremo, leggeremo insieme in tre diversi video, nei quali vedremo rispettivamente l'arrivo al castello, la permanenza al castello e il ritorno a casa, proprio nelle ultime pagine del capitolo. Quest'oggi dunque ci occupiamo della scena iniziale del capitolo trentesimo e vediamo i nostri eroi, Don Abbondio, Agnese e Perpetua, arrivare faticosamente al castello dell'innominato. Ecco a voi la prima parte del capitolo. Quantunque il concorso maggiore non fosse dalla parte per cui i nostri tre fuggitivi si avvicinavano alla valle, ma all'imboccatura opposta, con tutto ciò cominciarono a trovare compagni di viaggio e di sventura che da traverse e viottole erano sboccati o sboccavano nella strada. In circostanze simili tutti quelli che si incontrano è come se si conoscessero. Ogni volta che il baroccio aveva raggiunto qualche pedone si barattavano, cioè scambiavano, domande e risposte. Chi era scappato, come i nostri, senza aspettare l'arrivo dei soldati, chi aveva sentiti i tamburi o le trombe, chi li aveva visti coloro e li dipingeva come gli spaventati sogliono, cioè sono soliti dipingere. Siamo ancora fortunati, dicevano le due donne, cioè Agnese e Perpetua, ringraziamo il cielo, vada la roba, ma almeno siamo in salvo. Madonna Bondio non trovava che ci fosse tanto da rallegrarsi. Anzi, quel concorso, cioè quell'accorrere di tanta gente insieme, e più ancora il maggiore che sentiva esserci dall'altra parte cominciava a dargli ombra, a dargli un po' fastidio. Oh, che storia! Borbottava alle donne in un momento che non c'era nessuno d'intorno. Oh, che storia! Non capite che radunarsi tanta gente in un luogo è lo stesso che volerci tirare i soldati per forza? Tutti nascondono, tutti portan via, nelle case non resta nulla, crederanno che lassù ci siano tesori. Ci vengono sicuro, sicuro ci vengono. Qui addirittura la figura retorica del chiasmo, eh? Ci vengono sicuro, sicuro ci vengono. Oh, povero me, dove mi sono imbarcato? Oh, vogliono far altro che venir lassù, diceva Perpetua. Anche loro devono andare per la loro strada. E poi, io ho sempre sentito dire che nei pericoli è meglio essere in molti. In molti, in molti, replicava Don Abbondio. Povera donna, non sapete che ogni lanzichenecco ne mangia cento di costoro. E poi, se volessero far delle pazzie, sarebbe un bel gusto, eh, di trovarsi in una battaglia. Oh, povero me, era meno male andare su per i monti. Che abbian tutti a voler cacciarsi in un luogo, seccatori. Borbottava poi, a voce più bassa, tutti qui. E via, e via, e via, l'uno dietro l'altro, come pecore senza ragione. Quindi, in realtà, l'unico a non utilizzare la ragione è Don Abbondio. A questo modo, disse Agnese, anche loro potrebbero dire lo stesso di noi. Chetatevi un po', disse Don Abbondio, che già le chiacchiere non servono a nulla. Quel che è fatto è fatto, ci siamo, bisogna starci. Sarà quel che vorrà la provvidenza, il cielo ce la mandi buona. Ma fu ben peggio, quando all'entrata della valle vide un buon posto d'armati, parte sull'uscio di una casa e parte nelle stanze terrene. Pareva una caserma. Li guardò con la coda dell'occhio. Non erano quelle facce che gli era toccato a vedere nell'altra dolorosa sua gita, o se ce n'era di quelle erano ben cambiate. Ma con tutto ciò non si può dire che Noia gli desse quella vista. Oh, povero me, pensava. Ecco se le fanno le pazzie. Già non poteva essere altrimenti. Me lo sarei dovuto aspettare da un uomo di quella qualità, cioè da parte dell'innominato. Ma cosa vuol fare? Vuol fare la guerra? Vuol fare il re lui? Oh, povero me! In circostanze che si vorrebbe potersi nascondere sottoterra e costui cerca ogni maniera di farsi scorgere, di dare nell'occhio. Pare che gli voglia invitare. Vede ora, signor padrone, gli disse perpetua, se c'è della brava gente qui che ci saprà difendere. Vengano ora i soldati. Qui non sono come quei nostri spauriti, che non son buoni che amenar le gambe. Zitta, rispose con voce bassa ma iraconda don Abbondio. Zitta, che non sapete quel che vi dite. Pregate il cielo che abbian frette i soldati, o che non vengano a sapere le cose che si fanno qui e che si mette all'ordine questo luogo come una fortezza. Non sapete che i soldati è il loro mestiere di prendere le fortezze. Non cercano altro. Per loro dare un assalto è come andare a nozze, perché tutto quel che trovano è per loro e passano la gente a fil di spada. Oh povero me! Basta, vedrò se ci sarà maniera di mettersi in salvo su per queste valze, su per queste colline. In una battaglia non mi ci colgono, oh! In una battaglia non mi ci colgono. Se poi ha paura anche di essere difeso e aiutato, ricominciava perpetua. Madonna Abbondio li interruppe aspramente, sempre però a bassa voce. Zitta, e badate bene di non riportare questi discorsi. Ricordatevi che qui bisogna fare sempre viso ridente e approvare tutto quello che si vede. Alla malanotte, cioè l'osteria che stava all'inizio della valle dell'innominato, trovarono un altro picchetto d'armati, ai quali Don Abbondio fece una scappellata, dicendo intanto tra sé, oimè oimè, son proprio venuto in un accampamento. Qui il baroccio si fermò, ne scesero, Don Abbondio pagò in fretta e licenziò il condottiere, e si incamminò con le due compagne per la salita senza fare parola. La vista di quei luoghi gli andava risvegliando nella fantasia e mescolando all'angoscia presenti la rimembranza, cioè il ricordo, di quelle che vi aveva sofferte l'altra volta. E Agnese, la quale non gli aveva mai viste quei luoghi e se ne era fatta in mente una pittura fantastica che le si rappresentava ogni volta che pensava al viaggio spaventoso di Lucia, vedendoli ora quali erano davvero, provava come un nuovo e più vivo sentimento di quelle crudeli memorie. Oh signor curato, esclamò, a pensare che la mia povera Lucia è passata per questa strada. Volete stare zitta, donna senza giudizio? Le gridò in un orecchio Don Abbondio. Son discorsi codesti da farsi qui. Non sapete che siamo in casa sua. Fortuna che ora nessuno vi sente, ma se parlate in questa maniera... Oh, disse Agnese, ora che è santo... State zitta, le replicò Don Abbondio. Credete voi che ai santi si possa dire senza riguardo tutto ciò che passa per la mente? Pensate piuttosto a ringraziarlo del bene che vi ha fatto? Oh, per questo ci avevo già pensato. Che crede che non le sappia un pochino le creanze? La creanza è di non dire le cose che possono dispiacere, specialmente a chi non è avvezzo, cioè abituato a sentirne. E intendetela bene tutte e due, che qui non è luogo da fare pettegolezzi e da dire tutto quello che vi può venire in testa. È casa di un gran signore, già lo sapete. Vedete che compagnia c'è l'intorno. Ci viene gente di tutte le sorte, sicché giudizio, se potete, pesar le parole e soprattutto dirne poche, e solo quando c'è necessità, che a stare zitti non si sbaglia mai. Niente da fare, Don Abbondio non ha ancora capito la lezione, nonostante il discorso del Cardinal Borromio. Lui resta fedele al suo principio e nella vita bisogna nascondersi, quasi far dimenticare agli altri la propria esistenza, così non ti sbagli mai e non ti capiterà nulla di male. Fa peggio lei con tutte codeste sue, riprendeva Perpetua, ma zitta, gridò sottovoce Don Abbondio. Qui è bello lo simolo. Gridò, ma sottovoce, senza farsi sentire, Don Abbondio, e insieme si levò il cappello in fretta e fece un profondo inchino, che, guardando in su, aveva visto l'innominato scendere verso di loro. Anche questo aveva visto e riconosciuto Don Abbondio e affrettava il passo per andargli incontro. Quindi l'innominato fa gli onori di casa, viene ad accoglierli. Signor curato, disse quando gli fu vicino, avrei voluto offrirle la mia casa in migliore occasione, ma, a ogni modo, sono ben contento di poterle essere utile in qualche cosa. Confidato nella gran bontà di Vossignoria illustrissima, rispose Don Abbondio, mi son preso l'ardire di venire in queste triste circostanze a incomodarla. E come vede Vossignoria illustrissima, mi son preso anche la libertà di menar compagnia, cioè di portare altre persone con me. Questa è la mia governante. Benvenuta, disse l'innominato. E questa, continuò Don Abbondio, è una donna a cui Vossignoria ha già fatto del bene. La madre di quella, di quella, ovviamente sta per dire di quella ragazza che hai fatto rapire, ma si morde la lingua. Di Lucia, disse Agnese. Di Lucia, esclamò l'innominato, voltandosi con la testa bassa ad Agnese. Del bene io, Dio immortale, voi mi fate del bene a venire qui, da me, in questa casa. Siate la benvenuta, voi ci portate la benedizione. Oh giusto, disse Agnese, vengo a incomodarla. Anzi, continuò avvicinandosi agli all'orecchio, o anche a ringraziarla, ovviamente del denaro. L'innominato troncò quelle parole, domandando premurosamente le nuove, cioè le notizie, le novità di Lucia. E sapute che le ebbe, si voltò per accompagnare al castello i nuovi ospiti, come fece, malgrado la loro resistenza cerimoniosa. Agnese diede al curato un'occhiata che voleva dire, veda un poco se c'è bisogno che lei entri di mezzo tra noi due a dare pareri. Sono arrivati alla sua parrocchia, gli domandò l'innominato. No signore, che non gli ho voluti aspettare quei diavoli, rispose Don Abbondio. Sai il cielo, se avrei potuto uscire vivo dalle loro mani e venire a incomodare vostra signoria illustrissima. Bene, si faccia coraggio, riprese l'innominato, che ora è insicuro, cioè al sicuro. Quassù non verranno, e se si volessero provare, siamo pronti a riceverli. Speriamo che non vengano, disse Don Abbondio. E sento, soggiunse, accennando col dito i monti che chiudevano la valle di Rimpetto, sento che anche da quella parte giri un'altra masnada di gente, ma, ma... È vero, rispose l'innominato, ma non dubiti che siamo pronti anche per loro. Tra due fuochi, diceva Trasedo Don Abbondio, proprio tra due fuochi, dove mi son lasciato tirare. È da due pettegole. È costui, par proprio che ci sguazzi dentro. Oh, che gente c'è a questo mondo. Torna il gioco del doppio linguaggio dei due livelli linguistici. Da una parte i pensieri di Don Abbondio, che dicono la verità di quello che sta pensando realmente. Dall'altro lato le parole, che sono finte, cerimoniose, ufficiali, ma completamente vuote e soprattutto false. Avrà ragione l'innominato, o avrà ragione Don Abbondio? Lo scopreremo nelle prossime pagine, nei prossimi giorni, leggendo la scena centrale del capitolo 30 dei Promessi Sposi. Ci rivediamo nei prossimi giorni. Grazie per l'attenzione. Grazie. Grazie.